Siamo qua con i dolcissimi Rumaterra pronti per Rock and Fish del Cortellazzo o pensa che all'interno di tutte queste notti gialle che c'è il Rock and Fish c'è pieno di pesce e di birra Che giorno sei che sono? Soprattutto! E' il 15 giugno Siamo con noi Finciosa e i nostri amici che arriviamo diretti via mare, è un mondo bello Ti ha tolto i birre? Chi c'è che ha tolte? Rocco e giù si è andato a tolte Giancarlo si è andato a tolte E quante birre ti ha tolte? Non è andato a tolte, ma a me è una parella o no? E mille volte chiamavo amici Ma i miei amici questo è d'altro Avanti! Se meglio che partiamo se vogliamo arrivare a Cortellazzo per il 15 giugno Dai dai fiori! Ho molto topa qua vedo, non tanto performante Avanti! Avanti!